Ma che bontà le patate alla pizzaiola in padella. Le preparate facilmente e sono gustosissime. Sbuccia le patate, lava le e taglia le fettine. Versa in una padella lo spicchio d'aglio, le foglie di salvia, il rosmarino e dell'olio. Aggiungi le patate, un goccio d'olio, un pizzico di sale e di pepe, un goccio d'acqua e fai cuocere con il coperchio per 10 minuti. Versa in una ciotola la passata di pomodoro, un pizzico di sale, dell'olio e dell'origano. Mescola e tieni da parte. Taglia piccoli pezzi, anche il formaggio e la mozzarella fettine. Forma uno strato nella padella con le patate, aggiungi la passata di pomodoro, spolvera con l'origano, disponi le fette di mozzarella e i cubetti di formaggio. Copri con un altro strato di patate e prosegui ancora con la passata, una spolverata di origano, il formaggio e le fette di mozzarella. Mettete la padella sul fuoco con il coperchio per 5 minuti, poi togliete il coperchio e proseguite la cottura per altri 5 minuti. Sono buone, super filanti e facili da fare e se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu.